Il nostro telegiornale ben ritrovati, torneremo in primo piano sulla morte della giovane Sara Castigliola che è deceduta il 30 ottobre scorso all'ospedale Rizzoli dopo il parto. Infatti il PM ha predisposto un esame genetico sul corpo della giovane donna. E poi oggi giornata di lutto per i carabinieri della compagnia di Ischia, infatti è morto il maresciallo Bonavoglia, comandante della stazione di Barano dopo lunga malattia. Ed ancora coronavirus, i dati per quanto riguarda l'infezione dei positivi in età scolare tra 0 e 12 anni conferma evidentemente la tesi del presidente De Luca, sono oltre 25 mila i positivi in età scolastica in 7 giorni. E poi per quanto riguarda il calcio si torna a giocare la Coppa Italia, semifinale di andata, domani in trasferta l'ischiacalcio. Di questo e di altro ancora ci occuperemo come sempre tra pochissimo dopo la pubblicità. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia. Un posto da sogno. Un panorama mozzafiato. Il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle. Tutti i comfort. Quattro piscine, palestra, camere e residence con arreddamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco a meno. Con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno. Per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia. Cucina tipica ischitana e piatti mediterranei. Pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli. Per una serata speciale. Per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche. Tra il cielo e il mare. La Raspata. Solo scelte di qualità. Mionetto. Brindisi per veri intenditori. Mille molliche. Artigiani del gusto. Mille molliche. Dove la passione per la cucina incontra l'esperienza dei maestri delle arti bianche. Il risultato? Pietanze dal gusto inconfondibile e prodotti assolutamente genuini. Da noi tutti gli ingredienti sono sapientemente selezionati. Per il processo di lievitazione usiamo il criscito. La magica pasta madre che rende i nostri prodotti da forno molto digeribili e particolarmente buoni. Da Mille molliche. Trovi pane, pane speciale, pizze, cornetti, dolci, ma anche primi, secondi, contorni e sfizioserie da asporto. L'arte del mangiar bene. Mille molliche. Artigiani del gusto. Il centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine si è rinnovato. Nuove e moderne strumentazioni e studi più accoglienti e riorganizzati. Per la salute dei nostri pazienti ecco la nuova MOC Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton. Ecorad ti offre strumentazione di ultima generazione dagli altissimi standard tecnologici con riduzione delle dosi di radiazioni. Il centro Ecorad è inoltre specializzato per diagnosi approfondite per encefalo, colonna vertebrale, strutture osteoarticolari, mammografia. Ecorad è in rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad. Medicina di ultima generazione. Per la salute degli isolani. La ditta La Raspata, specialista nei prodotti congelati e surgelati, ti propone grande qualità a prezzi super convenienti. Scegli i cubettoni McCain, patate dal taglio irregolare, scottate e surgelate che conferiscono autenticità al tuo menù. Solo le migliori patate a pasta gialla selezionate. Ideali per girarrosti, bracerie e ristoranti con menù a base di carne. A tavola. C'è più gusto se scegli La Raspata. Distributori ufficiali sull'isola di Ischia McCain. Telefono 081 90 27 56. www.laraspata.it Ischia, il mare, le terme, la natura. Ad Ischia, nel centro, a due passi dal porto e dal mare, l'hotel Referdinando 4 stelle leisure ti offre un ampio parco, 5 piscine, 2000 metri quadrati di centro benessere, ben 4 ampie sale ristorante con tavoli ben distanziati e poi palestra e tanto altro ancora. Cogli le nostre offerte, scoprile sul sito web hotelreferdinandoischia.it oppure telefona al numero 081 507 01 11. E da oggi caparra 0 e cancellazione gratuita della prenotazione fino a 7 giorni prima dell'arrivo. Ci siamo attrezzati per garantirti una vacanza in piena sicurezza. L'isola più bella, le 4 stelle più prestigiose, per una vacanza davvero speciale. Referdinando. Stupirvi è la cosa che ci riesce meglio. Pubblicità media in service. Buono pubblicità. Agenzia stampa e propaganda. Dal 1962, nuove idee per l'isola di Ischia. La morte di mamma Sara predisposto a un esame genetico. Il PM ha ordinato un particolare accertamento sui tessuti della giovane mamma deceduta a Rizzoli e nel 30 ottobre dopo il parto. Carabinieri, bandiera a mezzasta, amore e maresciallo Buonavoglia. Il sotto ufficiale comandante della stazione di Barano è deceduto dopo una lunga malattia. Il cordoglio del sindaco Gaudioso. In Campania, oltre 25 mila positivi in età scolastica in 7 giorni. I dati rilevati dalle aziende sanitarie della regione sono stati trasmessi dal presidente De Luca, ai ministri Bianchi e Speranza. Calcio, Coppa Italia, semifinale di andata. Domani in campo l'Ischia. Gialloble giocheranno sul campo della Virtus Campania Ponticelli. Fischio d'inizio alle 14.30, diretta su Teleischia. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Teleischia. Dunque, nuovi sviluppi potrebbero presto arrivare sul caso della morte di Sara Castigliola, la giovane ischitana di 32 anni, deceduta il 30 ottobre scorso all'ospedale Rizzoli di Lancameno. Poco dopo aver messo alla luce la sua bambina. Causa del decesso, un'emorragia sopraggiunta in seguito al parto. Sei in tutti gli indagati, ovvero i ginecologi Francesco Rando e Silva Galletti, l'ostetrica Marcella Marino e gli anestetisti Maria Antonia Galano e Roberto Buonanno. Nella giornata di ieri, il PM di Napoli, Ciro Capasso, ha predisposto, così come richiesto dai consulenti incaricati di realizzare l'esame autoptico, un particolare accertamento sui tessuti della giovane mamma. L'incaricato di questo particolare esame è il dottor Ciro Dinunzio, che avrà l'obiettivo di escludere eventuali cause genetiche alla base dell'emorragia che ha poi determinato il decesso di Sara Castigliola. L'incarico sarà conferito lunedì mattina presso gli uffici della Procura della Repubblica di Napoli al centro direzionale. L'isola Tischia piange un altro suo figlio, sebbene acquisito. Il maresciallo dei Carabinieri Gennaro Bonavoglia, 57 anni, comandante della stazione di Barano, non è più. Dopo una lunga e faticosa battaglia, il maresciallo Bonavoglia ha smesso di soffrire. Il decesso è avvenuto a Napoli, dove Bonavoglia era ricoverata da circa una settimana in seguito all'improvviso aggravarsi delle sue condizioni. Un momento pacato, col sorriso che resterà per sempre un esempio da seguire per tutti i suoi colleghi e per tutti coloro che lo hanno incontrato sul loro percorso. Tra i messaggi e le notizie di Cordoglio, anche quella del sindaco di Barano Dionigi Gaudioso. I funerali del maresciallo Bonavoglia saranno celebrati domani pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di San Sebastiano a Barano. Cambiamo argomento e cambiamo comune. Siamo fiduciosi che la gestione del porto turistico di Laccomeno potrà tornare nelle mani del comune. Così il consigliere comunale di maggioranza Giovanni Desiano, ho fatto fatica, dice, ad accettare alcune decisioni del TAR sull'argomento. Sentiamo. Da Piazza Santa Restituta con Giovanni Desiano, consigliere comunale di Laccomeno, per parlare della situazione del porto. Tante notizie che si sono rincorse negli ultimi mesi, ora a metà del mese di gennaio, qual è la situazione e soprattutto quali sono le prospettive in vista dell'estate? Tecnicamente siamo in attesa del giudizio del Consiglio di Stato che dovrebbe arrivare il giorno 27 di gennaio, se non sbaglio. Facendo un rapido escorso di quello che è successo, la società che noi in più modi abbiamo intimato a lasciare il porto ha sempre ricorso al TAR. Il TAR con una serie di sospensive, praticamente, ha rimasto la gestione a loro fino ad adesso. Noi abbiamo fatto ricorso al Consiglio di Stato come Comune per avere le nostre ragioni che poi sono quelle di ritornare alla gestione pubblica, visto che non riceviamo canoni da oltre tre anni. Aspettiamo il giudizio del Consiglio di Stato sperando che faccia valere le nostre ragioni. Certo è che la situazione di stallo che si vive adesso rende difficile anche programmare quella che può essere la stagione estiva e rendere il porto effettivamente una risorsa per il Comune. Assolutamente sì, questo è uno dei problemi più gravi che ci si presenta con le sospensive del TAR. Vero è che come amministrazione noi abbiamo fatto tutti gli atti propedeutici ad essere pronti già dal 28 a subentrare alla gestione del porto. Abbiamo fatto una manifestazione di interessi per la gestione dei servizi. Anche questa è stata impugnata dall'attuale gestore, anche se è una semplice manifestazione di interessi. Il TAR ha dato una sospensiva fino a dopo l'udienza del Consiglio di Stato. Noi comunque abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare per trovarci pronti dal primo febbraio a poter operare. È comunque tardi, avremmo preferito poter programmare già dall'anno scorso, ma tant'è. Questa è la situazione attuale. Se dovessi chiederle sensazioni personali rispetto a quello che sarà l'esito di questa vicenda, qual è l'opinione del Consigliere Desiano? Io resto e sono molto fiducioso che il Consiglio di Stato faccia prevalere le nostre ragioni. Fino adesso io ho fatto veramente fatica a interpretare le decisioni del TAR perché mi sembra troppo evidente che ci sia qualcosa che non torni. Noi abbiamo diffidato più volte, ci sono le revoche per i mancati pagamenti e per la scadenza naturale del contratto, perché io vorrei ricordare che il contratto è scaduto il 9 di giugno dell'anno scorso. Quindi io resto fiducioso che il Consiglio di Stato faccia valere le ragioni dell'amministrazione comunale. E torniamo sulla polemica sul Green Pass sui trasporti marittimi, una norma da rivedere perché penalizza la mobilità dei cittadini delle isole. Lo sottolinea da Capri il Consigliere Bruno Dorazzi. Sentiamo. La problematica però fondamentale che adesso si è venuta a creare è di questa discrepanza tra il diritto della continuità territoriale per quanto riguarda l'isola di Capri e quindi per quanto riguarda tutte le isole minori. È vero che il governo sull'istanza dell'Ancim e del presidente dell'Ancim abbia così consentito ad una proroga dell'utilizzo soltanto del Green Pass base e non di quello rafforzato. Ma ovviamente questa è una limitazione perché l'aderoga si tratta di un mese, in pratica di un'aderoga e quindi questo riteniamo che sia un gap nell'organizzazione nazionale perché tutti devono essere poi garantiti nella continuità territoriale dell'isola. Anche chi non è ancora pervenuto alla vaccinazione per vari motivi o per motivi di salute o per altri motivi non è ancora riuscito a vaccinarsi completamente o completamente e quindi non ha potuto accedere a quelle che sono le indicazioni nazionali del Green Pass e quindi non poter usufruire di quella continuità territoriale che è il diritto di tutti. Ed ora il coronavirus e i dati. I dati soprattutto rilevati dalle aziende sanitarie della regione Campania sui positivi che sono registrati in età scolastica nella settimana tra l'11 e il 17 gennaio. Esattamente quindi la settimana da quando è stato deciso di riaprire dopo la sentenza del Tar le scuole in Campania. Ebbene il totale ammonta a 25.745 positivi. Questa è la distinzione così come è stata emessa dalla regione Campania per fasce d'età. Da 0 a 5 anni 7.442, da 6 a 10 anni 10.881, da 11 a 13 anni 7.422 per un totale complessivo di 25.745. Così il presidente della Campania De Luca comunica di aver ritenuto opportuno inviare questi dati al Ministero della Salute e per opportuna conoscenza anche al Ministro dell'Istruzione Bianchi. E continuiamo con i numeri. Partiamo dalla Campania con oggi che si registrano 21.670 nuovi contagi su 130.428 tamponi molecolari eseguiti nell'ultimo rapporto dell'unità di crisi. Si registrano 25 deceduti nelle ultime 48 ore. Per quanto riguarda i ricoveri in Campania sono 92 i pazienti covid ricoverati nelle terapie intensive, mentre sono 1.290 quelli ricoverati nei reparti di indegenza di tutti gli ospedali della regione. Ed ora invece la situazione a livello nazionale. Ad oggi 18 gennaio il totale di attualmente positivi è di 2.562.156 con una crescita di 6.878 assistiti rispetto a ieri. I deceduti oggi sono 434 in più. Il totale sale a 141.825. Numero complessivo di dimessi e guariti sale a 6.314.444 con un incremento di 220.811 persone. Tra gli attualmente positivi 1.715 sono in cura presso terapie intensive con un decremento di due pazienti. 19.448 persone sono ricoverate con sintomi con un incremento di 220 pazienti. Infine 2.540.993 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi dievi. I commenti. Speriamo di tornare presto ad una situazione sanitaria normale. Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Abbiamo avuto un picco estremamente alto ed è grande la pressione sugli ospedali. Ascoltiamo il sindaco. La situazione pandemica non abbiamo avuto un picco estremamente alto. Adesso noi contiamo decine di migliaia di contagiati in Campania e questo ha creato una grande pressione sugli ospedali. I dati ci dicono che il picco si sta raffreddando, che la situazione sta migliorando. Credo che in conseguenza di questo si potrà rapidamente sbloccare anche l'offerta ospedaliera per le altre malattie e ritornare alla normalità. Noi dobbiamo uscire da questa emergenza pandemica perché solo in questa maniera possiamo tornare alla normalità e fare in modo che poi tutte le offerte dei servizi siano soddisfacenti. Torniamo a Dischia dove ieri è stato festeggiato Sant'Antonio Abate. Per i più Sant'Antuono il Vescovo Monsignor Pascarella ha preseduto alla solenne celebrazione serale ricordando Sant'Antuono il padre del monachesimo. I Santi, come Sant'Antuono, ha detto Monsignor Pascarella, hanno ascoltato e vissuto la parola di Dio. Anche noi dobbiamo farci illuminare da questa parola che dà un senso profondo alla nostra vita. Ascoltiamoci uno stralcio dell'Omelia del Vescovo. La parola di Dio deve essere sempre luce per i nostri passi, lampada per il nostro cammino. La parola di Dio non vale dai detti in su, ma vale dai detti in giù. Riguarda la nostra vita, la nostra storia. Tutte le situazioni che ci troviamo a vivere personalmente, come famiglia, come nazione nel mondo, tutte queste situazioni dobbiamo lasciare che siano illuminati dalla parola di Dio. Solo la parola di Dio ascoltata, meditata con assituità, interiorizzata e vissuta, può dare un senso profondo alla nostra vita. I Santi sono coloro che hanno ascoltato la parola di Dio e hanno preso sul serio la parola di Dio, hanno vissuto la parola di Dio, perciò sono beati. Gesù dice nel Vangelo, beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Nella vita di Antonio, considerato il padre del monachessimo, nella vita di quest'uomo tutto cambia quando soprattutto si lascia travolgere, rivoltare, prende sul serio nella sua vita la parola di Dio. In particolare quelle parole che abbiamo ascoltato nel Vangelo questa sera, che Gesù dice a quel tale o un giovane ricco che queste parole cambiano completamente la sua vita. Ma quando anche Antonio ha vissuto qui su questa terra, anche la sua vita spirituale è stata una lotta, una lotta anche dura, anche con il demonio, che in tutti i modi volevo distoglierlo da questo cammino di santità. Siamo tutti chiamati a questo cammino di santità. Guardiamo ad Antonio che è stato anche poi una figura che ha dato un grande rilievo a tutto il monachessimo e quindi ringraziamo Dio che ci ha dato questo santo. Oggi l'appuntamento settimanale con Carlo Eidoscopio, la trasmissione dedicata alle mille sfaccettature di cultura, arte e tradizioni realizzate e condotte da Claudio Iacolo. La trasmissione si occupa delle celebrazioni organizzate in occasione della festa di Sant'Antonio a Bate con un'intervista al parroco Don Giuseppe Nicollella, uno speciale dedicato al rito della benedizione degli animali. Vediamoci lo stralcio. Una riflessione su un aspetto in particolare, uno dei santi più antichi della storia della cristianità eppure una tradizione che vede oggi coinvolto i giovani che abbiamo visto qui venire con i loro animali, cani, gatti ma anche qualche coniglietto. Per dirla con Papa Benedetto, i santi non invecchiano mai, i santi sono sempre giovani sia perché vivono in Dio e quindi non possono invecchiare ma anche perché il popolo li percepisce attuali, presenti, li invocano e così anche per Sant'Antuono. Sant'Antuono sì si presenta ecco come nella iconografia, come un simpatico nonno, un vecchietto, però la gente ecco lo sente presente nonostante siano passati quasi 1700 anni dalla sua morte, muore nel 356, però ecco è sempre attuale e presente, come d'altro canto ripeto, tutti i santi. Presso la sede della reggia di Portici del Wine Art Museum è stato presentato il mosaico per Procida, il nome del vino che celebrerà l'isola Campana per l'evento del 2022. Una commissione esaminatrice preseduta da Eugenio Gervasio, fondatore del museo, ha avuto modo di scegliere l'etichetta che rappresenterà il prezioso nettare. Vediamo. Ad ospitare un mosaico per Procida, l'etichetta dedicata al vino Procida 2022, il MAV deve essere altrimenti un'istituzione che è dedicata proprio al settore vino. Sì, ci stiamo facendo strada, siamo il MAV, Museo Arte, Vine e Vite, stiamo facendo tante cose nel connubio arte, cultura, vino. Questa iniziativa, questo progetto dell'Associazione di Identità Mediterranea è particolarmente bello, ci siamo appassionati dal primo momento, abbiamo con Cataldo, con Chetano Cataldo sposato questo progetto e ci ha fatto molto piacere ospitare tutte queste giovani artiste che si sono cimentate nel rapporto arte-vino per dare un'etichetta alla bellissima Procida, capitale della cultura 2022. Il vino è un elemento fondante del settore enogastronomico della nostra regione? Assolutamente, sulla nostra regione, nei nostri paesi, ma soprattutto sul nostro Made in Italy. Noi abbiamo incentrato molto rispetto a questa eccellenza per dare un'occasione di parlare col dato scientifico, col dato culturale, col dato accademico di che cos'è il mondo del vino e qual è il legame col rapporto con l'arte e con la cultura e l'abbiamo fatto in questa cornice meravigliosa della Reggia di Portici assieme al Dipartimento di Agraria che ci ha dato l'onore di essere qui e ci ha ospitato in un rapporto estremamente positivo proprio per lavorare con le nostre eccellenze e per dare la possibilità a tanti giovani di esprimersi a partire da questo concorso artistico che ci porterà una bellissima etichetta che porterà Procida nel mondo con il suo vino, con la sua cultura e con le nostre eccellenze. Appunto Procida 2022 una vetrina internazionale dove esporre anche i nostri vini. Assolutamente, il rapporto con l'enogastronomia, col territorio, con la cultura del territorio dell'enogastronomia è fondante e quindi quale occasione migliore per queste iniziative, per questo programma bellissimo che si sta mettendo in campo per Procida 2022 dove appunto al centro ci sono le nostre eccellenze. Vediamo qui nel museo esposte molte bottiglie e anche bottiglie dedicate all'isola d'Ischia. Il tema del vino, il tema del vino della Campania è fatto da 3.000 anni di storia, quindi andiamo sicuramente da quello dei Campi Fregrei a quello delle isole, quindi sicuramente Ischia, ma anche il Vesuvio con Lacrima Cristi, cioè qui c'è una celebrazione di tutto quello che è la nostra eccellenza e i vini campani tutti si sono fatti veramente strada soprattutto nell'ultimo periodo per recuperare un gap rispetto sia ai temi di qualità, sia ai temi di mercati e di aperture anche internazionali con un prodotto che è assolutamente di grande grande qualità. Il pizzaiuolo diventa un professionista al pari dello chef. Il 17 gennaio, nella giornata mondiale del pizzaiuolo, Sergio Micu, che è presidente dell'Associazione Pizzaiuoli Napoletani e Filippo Monaco, preside dell'Istituto Alberghiero Lucio Petronio di Monte Ruscello, hanno illustrato il nuovo indirizzo didattico appena partito nell'Istituto. Dal percorso di studi nascerà una figura esperta in pizzeria come quella già esistente di cucina, pasticceria o di sala. Con l'Istituto Petronio stiamo collaborando anche per il progetto internazionale un pizzaiuolo per Procida in vista di Procida 2022. Una sezione del concorso sarà riservata ai ragazzi dell'Istituto Alberghiero. Ha sottolineato tra l'altro il Presidente Micu. Vediamo il servizio. Siamo sempre più performanti con le richieste che ci pervengono dalla base e pertanto noi rispondiamo sempre di più a quelle che sono le esigenze del mercato. Ci viene chiesto di avere ragazzi professionalmente preparati e culturalmente atti a cercare di produrre un prodotto di qualità, visto che sempre di più oggi la pizza che è un pasto che unisce il mondo, la pizza diciamo che nel 2021 su Google è stata la parola più cliccata al mondo, per cui intorno a questo ci siamo posti il problema, visto che ci sono sempre più materiali performanti che richiedono oggi la preparazione di un prodotto povero che pertanto abbiamo cercato di dare offrire al mercato professionalmente parlando ragazzi in grado di preparare sempre più prodotti di qualità. Oggi grazie alla Scuola Berghiera, il Petronio e il Preside Filippo Monaco, oggi il pizzaiolo ha una vera e propria qualifica riconosciuta dallo Stato. Ma il pizzaiolo è per tanti motivi diventare pizzaiolo, prima in primis perché c'è una molta carenza in tutto il mondo di una richiesta di pizzaioli, quindi anche noi docenti, l'istituto, ma anche in giro si sente che non riescono a trovare pizzaioli e quindi noi come istituto del Petronio a Berghiero stiamo cercando di formare questi ragazzi un pochettino, oltre l'arte della cucina, anche l'arte del pizzaiolo, l'arte bianca. Perché oggi in tutto il mondo si parla di pizza napoletana, perché di pizza si parlava in tutto il mondo, ma non di pizza napoletana specifica. Da quando poi è nata, facemmo il riconoscimento europeo di STG, da lì è partito tutto questo e il mondo si è aperto, perché è un marchio riconosciuto dall'Europa, non è un marchio più presto. Purtroppo non si è ancora capito dai pizzaioli che cosa abbiamo nelle mani. Cercherò di farglielo capire al più presto, perché è un marchio molto importante, un marchio europeo, che oggi purtroppo nessuna pizzeria è ancora scritta al marchio STG. Il progetto per il recupero dell'ex carcere di Santo Stefano a Ventotene è un'iniziativa ambiziosa a cui guarda tutta Europa, lo ha detto il ministro della cultura Dario Franceschini. Il valore di quei luoghi deve essere considerato per l'alto significato simbolico, è lì che è nata l'idea più rivoluzionaria dei nostri tempi, cioè l'Europa federale. Ed è giusto oggi intitolare, dice Franceschini, questo progetto a David Sassoli, il presidente del Consiglio europeo scomparso qualche giorno fa, che con il suo impegno politico e civico è stato in tutto il suo percorso di vita un interprete profondo dello spirito del manifesto di Ventotene. La proposta di intitolare l'ex carcere di Santo Stefano di Ventotene a David Sassoli è stata estesa da Silvia Costa, che è commissaria straordinaria del governo, d'intesa col ministro Franceschini e la proposta è stata accolta di buon grado dal premier Mario Draghi, che ha sottolineato come la morte di David Sassoli rappresenta una grande perdita per l'Italia e per l'Europa intera. In una riunione in questi giorni è stato fatto il punto sul monitoraggio della mitilicoltura nei campi flegreci. Aggiorna con questo breve messaggio l'assessore regionale Nicola Caputo. Sentiamo. C'è stato un importante riunione sulla mitilicoltura e un follow-up di una riunione di giugno per, in sostanza, leggere i risultati del monitoraggio sull'IPA della zona Fregrea e abbia stata anche l'occasione per constatare l'efficacia del modello previsionale messo in campo dalla regione campania insieme all'Università Partenope e al Centro di Referenza Nazionale. La campania, anche da questo punto di vista, è all'avanguardia e di questo ne beneficeranno sia i produttori ma, nello stesso tempo, i consumatori perché, dal punto di vista della sicurezza alimentare, siamo ai massimi livelli. Lo sport e il calcio si torna in campo per la Coppa Italia di Lettanti Campania. Domani, infatti, scende in campo l'ischia calcio in trasferta. Giallo Bleche giocheranno questa semifinale di andata della Coppa Italia sul campo della Virtus Campania Ponticelli, una squadra che milita all'ottava posizione del girone A del campionato di eccellenza. Ci metteremo massimo impegno per dare una gioia ai nostri tifosi, ha dichiarato, tra l'altro, nella conferenza di oggi, mister Angelo Iervolino. La telecronica sarà trasmessa in diretta da Teleischia a partire dalle 14.25. Ma, intanto, ascoltiamoci, mister Iervolino. Mister, lunga sosta per l'ischia come anche per le altre squadre. Prima domanda, come sono andati gli allenamenti, come sono andate le settimane e, soprattutto, com'è tornare in campo con un impegno così importante come quello della semifinale di Coppa? Beh, come dicevi tu, torniamo in campo dopo una lunga sosta e quindi diciamo che è come un po' ripartire quando, diciamo, in preparazione quando eravamo in estate. Le settimane sono andate bene con una grande, secondo me, voglia di allenarci e di preparare soprattutto questa partita perché, anche se è stata un po' posticipata, poi era questa la prima partita nostra dell'anno. Quindi già eravamo proiettati e mentalizzati verso questa gara. Nonostante questo poi il momento storico, diciamo così, è un po' quello che è per tutti, per tutte le squadre, dalla Serie A in giù particolare. Quindi abbiamo adattato e dovuto adattarci a quello che sono i momenti storici, appunto, del Covid, dei contatti, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo dovuto ben modificare giorno per giorno, anzi ora per ora, quello che poteva essere poi là il contenuto degli allenamenti. Però nonostante questo, ripeto, reputo che i ragazzi abbiano fatto un bel mese focalizzato su determinati obiettivi. Nonostante questo, come dicevo poco fa, di questi piccoli ovviamente contatti, come purtroppo tutti noi nei giorni della vita quotidiana possiamo averne. Abbiamo adattato i momenti. Chi è stato, diciamo così, positivo è arruolabile, nel senso che sono tutti negativi dal punto di vista, ripeto, del Covid. Però c'è da ovviamente tenere, secondo me, attenzione a questa cosa. Perché dopo il rientro da, diciamo, dalla, tra virgolette, chiamiamola malattia, c'è sempre da essere attenti. Anche quello che vediamo, quello che leggete anche in Serie A, anche i grandi campioni devono essere monitorati dopo vari studi effettuati sul rientro post-Covid. Quindi dobbiamo essere attenti in questo. E appunto sotto anche questo aspetto per domani dovrò anche, diciamo, palleggiare questa cosa. Siamo tutti, diciamo, arruolabili, tranne ancora Andrea e Angelo. C'è ancora, diciamo così, Gigio che ha i postumi di quel calcione che ben conosciamo, ha ancora dei punti sul naso. Quindi dobbiamo anche lui, come un po' a tutti, adattare anche questa situazione. Ci sono praticamente una decina di giorni di fuoco per l'Ischia, Coppa Italia andate in ritorno e poi in campo con la Putiolana. Come affronterà l'Ischia questi dieci giorni e se possono essere partite che possono valere una stagione? Noi siamo una rosa che ha bisogno di giocare, a prescindere dal fatto che poi ovviamente quando giochi così spesso, come abbiamo fatto anche il mese di dicembre, va incontro ovviamente a delle difficoltà fisiche, perché è ovvio che sia così, non essendo ovviamente una, come diceva prima Vincenzo, una squadra magari professionistica che quindi hanno anche altre cose i ragazzi da pensare. Però noi siamo una squadra che ha questa caratteristica, cioè noi siamo una squadra che deve avere l'obiettivo della partita per azzerare quello che è stato il giorno precedente della gara precedente e concentrarsi su quello che sarà il futuro. Bene, il resto ce lo consegnerà il campo domani, noi invece adesso prima di chiudere come sempre diamo uno sguardo al meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Bene, chiudiamo qui, vi lascio in compagnia dei nostri programmi e ci rivediamo come sempre alle 14. Arrivederci.